Presidente, eccomi ci sono, oh eccolo qua, è arrivato, si è fatto aspettare come le star proprio, allora io mi siedo, allora Presidente buonasera, benvenuto, perdonatemi sono appena, eccomi, sono appena rientrato da Perugia e per questo che ho portato un po' di ritardo, buonasera a tutti, grazie, benvenuto, buonasera, dal suo studio a Palazzo Chigi, senta intanto una curiosità per cominciare, ma sua mamma che si chiama Lillina, continua a chiamarla Giuseppe o dopo il famoso tweet di Trump ha cominciato anche lei a chiamarla Giuseppi? È rimasta all'antica abitudine, lei mi ha sempre chiamato sin da piccolo Beppe. Ah Beppe, Beppe, senta Beppe, allora la prima volta che è entrato a Palazzo Chigi, Presidente, non ha pensato, lo stavo raccontando prima, lei veniva da grande professionista, un grande avvocato, non ha pensato ma che ci faccio io qui, perché di solito quelli che arrivano dove lei adesso, ci arrivano dopo anni e anni di lotta politica o comunque di carriere universitarie legate però sempre al sogno di fare politica, per lei non era così, ci si è trovato così all'improvviso, non è mai successo di dire ma che ci faccio io qui? E' stato, ricordo la prima volta, è stato un cambio di prospettiva assolutamente rapido e quindi anche in qualche modo disorientante e appena è entrato qui ho subito voluto conoscere Palazzo Chigi, conoscere tutte le persone che ci lavorano. Senta, ma ogni tanto le capita ancora oggi di pensare ma che ci faccio io qui, visto tutto quello che le sta succedendo intorno? Adesso è meno disorientante anche perché c'è un progetto politico, un programma di governo da perseguire quindi c'è molta determinazione e so che questo palazzo è lo strumento, è il luogo che mi consente di realizzare questo programma in qualche modo e quindi è uno strumento utile a questo fine. Senta Presidente, ma è vero che a scuola lei era un secchione, ma così meno mi hanno detto, non apriva mai i libri di matematica? E' vero, la matematica è una materia che ho sempre studiato facendo i compiti subito a casa o immediatamente dopo che venivano assegnati. E secchione sì, ho studiato molto, ho sempre studiato molto, ho sempre cercato di studiare. Ah ma quindi non apriva i libri di matematica perché sapeva bene la matematica, non perché non le piacesse. No no, mi piaceva anche la matematica e quindi anche in matematica andavo bene, però erano di quelle materie in cui ecco gli esercizi li facevo subito, quindi non c'è stata mai la necessità di aprire il libro, ero molto attento in classe. Beato lei, beato lei, no, se te le mostriamo, ma speravo ci avessimo una cosa in comune, che io in matematica ero negato. Senta, le vorrei mostrare questo video, si guardi. Ecco, vorrei sapere che fine ha fatto, che fine ha fatto quel pallone? Che fine ha fatto? Allora, chi ha ripreso quel video sapientemente ha interrotto l'immagine. Non so, sarà partito da qualche parte, avrò rotto qualche vetro, mi sono girato dall'altra parte e ho fatto finta di nulla. Lei però da ragazzo ha giocato a calco, no? Mentre Renzi faceva l'arbitro. Ecco, pensa che se l'avesse saputo Renzi l'avrebbe espulsa. Credo di no, sono sempre stato molto corretto, anche nel gioco del calcio. Sull'arbitro non si... Siccome l'arbitro è imparziale per definizione, non pensare male è sempre doveroso. Ecco, non le ha ancora detto Renzi, Giuseppi stai sereno. No, no, ma dobbiamo stare sereni tutti perché bisogna fare un lavoro di squadra e tutti quanti dobbiamo lavorare ovviamente per un obiettivo comune. Quindi a questo punto di vista dobbiamo stare sereni tutti, concentrati e motivati determinati. Il Paese ci chiede di lavorare tutti insieme verso un medesimo obiettivo, questo sì. Ecco, senta, c'è un altro Matteo che in questi giorni l'ha chiamata Giuseppi. Guardi questo breve video. ...di battito, un chilometro fa. Giuseppi. Giuseppi, quando vuoi, dove vuoi, allora che vuoi, sul canale che vuoi. Ecco, lo accetta l'invito? Guardi, adesso sono molto preso perché l'attività di governo è molto impegnativa, questo poi è un periodo veramente in cui ci sono tantissime scadenze. Lui ha molto più tempo libero, vedo. Quando poi adesso un attimo sarò un po' più... Quando avrò un attimo anche di fiato per respirare, potrà essere utile un confronto, non mi sottraggo mai. Sarà un'occasione buona per guardarlo in faccia e richiamargli, invitarlo a dire, a ripetere tutte quelle fesserie e falsità che sta dicendo. Adesso, nel trato parleremo di quello che è successo oggi, ma le volevo chiedere, tra i due Mattei, questo ce lo può dire, tra i due Mattei che lei ha avuto modo di conoscere da vicino, chi è il più prepotente e chi è anche il più simpatico, invece? Magari lo stesso. Guardi, io Renzi non lo conosco bene. Renzi l'ho incontrato una sola volta, prima che diventasse presidente del Consiglio. Dopodiché allora mi è capitato solo di parlargli per telefono e anche brevemente, quindi francamente è una persona che non conosco. Mi viene descritta da chi lo conosce. Matteo Salvini invece l'ho conosciuto meglio e ci ho lavorato ovviamente per 14 mesi. Allora, chi è più prepotente? Non mi sostraggo alla provocazione. Diciamo che se parliamo dal punto di vista culturale, l'arroganza e la prepotenza la vedo sicuramente più pericolosa è Matteo Salvini, dal punto di vista, diciamo, culturale o subculturale. Suba, insomma, non c'è la sua cultura, ma se... Senta, invece è vero che... È vero che lei è Trump alla fine, vi trovate simpatici, perché venite tutti e due dal mondo degli affari, del mondo del... No, quindi avete una sintonia, è così? Beh, diciamo, venire dal mondo degli affari per me è un po' impegnativo dirlo, diciamo. Lui gli affari li confundeva come... Ecco, io come avvocato, per carità. Sì, certo, quello intendevo. Sì, diciamo che sicuramente mi ha aiutato molto il fatto di aver difeso degli imprenditori, delle imprese, perché capisco, è con po' la logica del businessman. E poi abbiamo una certa franchezza nel comunicare, questo sì. Ma lui è davvero così aggressivo o recito? È un ruolo quello che ha, un po' di sceriffo cattivo? Lui ha le idee molto chiare, persegue i suoi propri obiettivi e parla molto direttamente. E quindi chi lo... Sente, le faccio vedere, Presidente, una foto di oggi, di Piazza San Giovanni. Piazza San Giovanni è stracolma di militanti della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Ecco, che impressione le fa vedere la piazza simbolo, tra l'altro simbolo della sinistra, Piazza San Giovanni, stracolma di persone che chiedono di fatto le dimissioni del suo governo. Credo che sia legittimo per chi ha l'opposizione organizzare delle iniziative di questo tipo, delle iniziative di protesta. E nella logica anche del gioco democratico. Non mi spaventa, non mi preoccupa. Anzi, io ho un'opinione per cui anche l'opposizione può dare un contributo, uno stimolo critico per farci far meglio. Adesso c'è la manovra economica, c'è un piano anti-evasione. Se hanno qualche suggerimento da darci sull'anti-evasione, ben volentieri, potremmo anche valutare positivamente. Matteo Salvini ha un grande consulente in materia, ha detto che l'esperto fiscale della Lega è Armando Siri. Se venisse qualche suggerimento... Non credo però, perché mi pare che li accusano di voler mettere le manette agli evasori. Tasse e manette è uno degli slogan che oggi girava in piazza. Sulle tasse è una stupidaggine ovviamente, perché quando si avrà la bontà, con animo sereno, di esaminare la manovra nei suoi dettagli, si vede anzi che abbiamo contenuto la pressione fiscale rispetto al prospettato aumento. Abbiamo continuato nell'opera di abbassamento della pressione fiscale. Adesso, come sapete, per gli artigiani, i commercianti, fino a 65 mila euro è un'alliquota bassissima, al 15%. Quest'anno interveniamo per il cuneo fiscale, quindi tagliamo le tasse per i lavoratori, che avranno maggiormente soldi, un incremento della retribuzione in busta paga. Ma noi continueremo sempre così. Ogni anno cercheremo, ecco perché il piano di attivazione è molto importante, per recuperare risorse finanziarie e destinarle a tutti i cittadini. Quindi continueremo a intervenire sulle partite IVA, anche sopra i 65 mila euro, e riformeremo più ampiamente l'IRPEF. E questo è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda invece... Senta, Presidente, ma... E invece sul tema del carcere agli evasori? Ah, guardi, sul carcere agli evasori io sono assolutamente determinato. È un obiettivo del programma di governo. Io non indietreggio di un millimetro su questo. Quindi faremo anche questo, perché è previsto. Adesso stiamo soltanto discutendo sullo strumento normativo, ma si farà anche questo e andrò fino in fondo. Ecco, però, la nuova strana coppia della politica italiana, che si formano delle coppie imprevedibili, Di Maio Renzi, la accusa di voler mandare in crisi i commercianti e i piccoli imprenditori sostituendo il contante con le carte di credito. E ricordano sempre il fatto che in Italia le carte di credito hanno un costo che magari in altri paesi non hanno. Cosa risponde loro? Guardi, io non so e non credo che Di Maio pensi assolutamente questo. E non so se Renzi pensi sinceramente questo. Anche perché è una cosa che non corrisponde alla realtà. Noi non vogliamo sostituire e non sostituiamo la moneta elettronica con il contante. Il contante si può continuare a utilizzare. Il fatto di avere previsto che possa passare il limite di utilizzo per il singolo acquisto da 3.000 a 2.000 euro non significa compromettere l'utilizzo del contante. Semplicemente stiamo offrendo incentivi per chi lo voglia fare per utilizzare carte di credito, di debito, carte prepagate, smartphone. Ci sarà un ventaglio di pagamenti digitalizzati e chi ricorrerà a questa modalità di pagamento ne avrà dei benefici. Super bonus, premi fedeltà, potrà partecipare a estrazioni di premi. Questo lo facciamo secondo un meccanismo incentivante senza penalizzare chi utilizza il contante. Aggiungo, e questo l'ho fatto io personalmente, perché se no non posso dire agli italiani facciamo un patto tutti insieme e poi non preoccuparmi di chi utilizzerà una carta e quindi moneta elettronica. Ho parlato con tutti i più grandi gruppi bancari, con le poste, tutti i circuiti degli intermediari finanziari, ho avuto garanzie che arriveremo e quindi partirà un piano anche con azzeramento o contenimento delle commissioni. Io non voglio che i cittadini... Esatto. E voglio che le carte siano a disposizione a zero costi per tutti. Anche attenzione per i commercianti, che non è giusto, anche i commercianti, non solo i cittadini consumatori, anche i commercianti, debbano pagare commissioni come adesso pagano, che sono sicuramente più elevate del dovuto. Senta, Presidente, Grillo ha detto, ne abbiamo parlato anche prima, la provocazione, togliamo il voto agli anziani. Con lei sarebbe disposto a togliere il diritto di voto a sua madre? Allora, già detto, devo prima verificare l'orientamento di voto di mia madre. Si appoggia a questo governo e allora rimarrebbero per gli anziani. Restiamo in famiglia, che suo figlio è un figlio, Nicolò, che ha... Al cellulare, suo figlio? Al cellulare? Purtroppo sì, ho dovuto cedere. Ecco, ma... glielo controlla mai? Glielo controlla? No. No. Davvero? Ho fiducia in lui, gli ho spiegato, sì, davvero. Anche perché ha una password di... Prego, dica. Sa la password? Lui ha una password e non gli ho mai chiesto qual è la password. Ah, quindi lei non ha il codice, non riesce a entrare nel cellulare. Però lei, oltre a essere... Non ha il codice. Non ha il codice. Lei è un professore, è stato per tanti anni un professore, ma anche un genitore. E volevo chiedere, lei partecipa alle chat, alle famose, mi permette di dire, alle famigerate chat scolastiche dei genitori. Sarebbe bello sapere se il presidente del consiglio... Lei è in una chat dei genitori, di suo figlio. Allora, prima di diventare presidente del consiglio ero presente in una chat. Quando ho fatto le alimentari ero presente nella chat, anche se non ero attivo. Ricevevo informazioni passivamente. Adesso, confesso, presidente del consiglio, non sono entrato in chat. Quindi lei ha fatto il presidente del consiglio per avere una scusa buona per togliersi dalla chat, mi sembra anche giusto. Per sottrarmi alla chat. Senta. Ecco, vorrei mostrarle, invece cambiamo proprio tono, una foto, una foto di questa settimana che ha fatto il giro del mondo, una foto che viene da Lampedusa. Insomma, ecco, non ha bisogno di commenti. Ecco, vorrei chiederle appunto come racconta suo figlio, lei, foto come questa. E gli racconto che ci sono tantissime persone che cercano una speranza di vita, che soffrono nel loro paese, delle volte soffrono, delle altre volte semplicemente vogliono migliorare la qualità della loro vita e pur di far questo ho spesso anche preso in giro, perché io sono stato in Africa, ho cercato di capire come nascono questi percorsi della morte, come si sviluppano queste disavventure, come si alimentano questi traffici di esseri umani. Io ho scoperto che molto spesso c'è anche la prospettiva di un sogno, di un sogno e quindi ci si affida a queste organizzazioni che, attenzione, sono famiglie poverissime che arrivano sin dall'inizio a pagare 3.000, 4.000, 5.000 dollari. Dopo un po' si parte ci si mette nelle mani di queste persone dopo un po' prendono i soldi e chiedono altri soldi, ovviamente c'è tutto un villaggio che si indebita per questo, iniziano a maltrattare queste persone, quindi ci sono queste rotte dove si è esposti a soprusi, a ogni forma di violenza, dopodiché si arriva vicino alla costa e vicino alla costa si vengono tenuti lì, fino a quando non si parte con un'imbarcazione di fortuna e poi succede questo. Ecco, ma mi scusi, nel precedente governo il Conte 1 che faceva dei porti chiusi la sua bandiera, lei diceva già queste cose, il problema è non accoglierli qua, non è che gli salviamo la vita, li facciamo solo morire dall'altra parte, sull'altra sponda, l'idea è che se non partono muoiono, se non li facciamo partire non è che vivono, muoiono lì, cioè non è che cambia molto, è così? Guardi però, guardi però, se noi dicessimo partite tutti, venite e vi accogliamo, ne morirebbero molti di più, bisogna anche guardarle in faccia questa realtà, questa realtà così complessa dei flussi migratori. Come è cambiato? Perché a meno che lei non pensi... No, prego, prego. Quindi voglio dire, sicuramente una politica di rigore, una politica di rigore, che cerchi di comunicare che non si può arrivare in questo modo in Italia, evitare il pull factor, è una politica che li protegge ancora di più. Lei poi mi dirà, ma stan lì, vengono trattati male, sono in mano ad organizzazioni criminali. Sicuramente la soluzione migliore, infatti, è intervenire con la cooperazione nei paesi di origine. Adesso io lancio un progetto, a novembre sarò nel Ghana, progetto Africa, un progetto concreto che può offrire a migliaia di persone in Africa, è un progetto con società italiane, aziende italiane, può offrire migliaia di posti di lavoro ai giovani africani, una filiera agricola. Sono questi gli interventi che dobbiamo fare. Senta, Presidente, questa è una mia curiosità, non posso non chiedere. Lei ha sempre detto di ispirarsi ad Aldomoro, grande statista della sua regione, pugliese. Però Aldomoro impiegò vent'anni per cambiare un'alleanza di governo. Voi avete impiegato una settimana. È cambiata la politica, sono cambiati i politici, è cambiato il mondo. Come si spiega un cambiamento così violento, rapido? Guardi, guardi, la rapidità anche della percezione dello scorso del tempo è molto diversa rispetto al passato. Forse anche la politica si è adattata. Ma devo dire che la politica si è adattata in maniera molto più veloce di un tweet. Senta, a proposito però di alleanze... Sì, però ecco... La dica, dica. All'irà però della battuta è chiaro che è un contesto completamente diverso e quello che è successo sicuramente in Italia in agosto è una cosa forse anche irripetibile perché se non fosse stata una crisi in pieno agosto con la crisi di una manovra economica alle porte non si poteva più realizzare con la prospettiva di uno spread che saliva di un esercizio finanziario in via provvisore che sarebbe partito a dicembre ecco, se non fosse stato contesto del genere sarebbe sicuramente stato difficile come dire una nuova esperienza di governo in questo modo Scusi, una curiosità lei beve i mojito? No? È un appassionato di mojito? Assolutamente no Ecco, è stata la smolta è stata quella Ma senta, ammettiamo per è un'ipotesi tra le tante ammettiamo che la situazione nei prossimi mesi cambi e si vada a votare lei sarebbe disposto questa volta a candidarsi per per entrare in Parlamento e quindi per candidarsi anche come leader di una coalizione? Sono adesso assolutamente concentrato sulle azioni di governo il dopo conte non me lo pongo per il dopo penso soltanto al futuro del paese quello sì ma quello va progettato ogni giorno questa è la perfetta risposta da politico professionista senta io siamo quasi alla fine le chiedo noi siamo un programma che si chiama le parole della settimana non posso non chiederle qual è la parola di questa settimana per lei della sua settimana ma di questa settimana ce ne sono tante di parole che mi hanno colpito sicuramente determinazione determinazione nell'azione concentrazione nell'azione di governo è un passaggio molto importante per quanto riguarda anche la manovra economica e questo passaggio adesso dobbiamo perseguire questo passaggio lunedì quindi ci sarà il vertice di governo decisivo per la manovra? ragionalmente ci ritroveremo per confrontarci con le forze politiche anche perché abbiamo approvato la manovra salvointese quindi è bene che ci sia un momento di confronto per definire gli ultimi dettagli e per verificare anche quali sono le ultime posizioni delle varie forze politiche su questi dettagli che abbiamo lasciato Presidente la ringrazio l'ultima cosa che le chiedo è un po' frivola ma siamo di sabato sera finiamo con un sorriso lei in queste settimane è stato centro dell'attenzione degli stilisti per la famosa pochette a quattro punte io non so farmi nemmeno con una punta sola ci fa vedere come si fa una pochette? stasera vi sto deludendo allora esatti è per quello volevo vedere se ce la faceva in diretta perché lei ha conquistato è andato al G8 ha fatto una figurone no ma la verità si può fare a quattro a tre a due a una così insomma dipende non ce la vuol far vedere va bene grazie ringrazio il presidente il presidente Conte grazie per aver passato questa sabato sera con noi grazie grazie a lei grazie a tutti grazie davvero i telespettatori grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti